Chiamarlo cattivo odore è un eufemismo, in realtà è una vera e propria puzza quella che ammorba la palazzina che dovrebbe ospitare il nuovo distretto sanitario di Montesilvano. Nata per ospitare tutte le specialità sanitarie del vecchio distretto, la sede di Via di Vittorio, aperta solo in parte, è già stata ritrasferita alla ex Baiocchi. Quanto al trasferimento di tutti i servizi sanitari, anche di quelli che sono ancora sulla nazionale adriatica, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, parla di primavera 2020. La nuova struttura del distretto sanitario, inaugurata pochi mesi fa, purtroppo ha già vissuto negli anni in un travaglio molto lungo. Finalmente la città era pronta a ospitare intanto questi due servizi per poi aspettare il trasferimento di tutti gli altri. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, alcuni odori derivanti da delle resine che sono state utilizzate hanno purtroppo reso necessario l'ulteriore trasferimento di questi servizi che mi auguro, ne abbiamo parlato qualche giorno fa ad un tavolo che ho organizzato presso la ASL, mi auguro che possa essere ripristinato nel più breve tempo possibile. Si parla di fine agosto, inizio di settembre, ma non solo questo, come primo cittadino auspico che anche i lavori che ultimeranno la struttura, la renderanno agevoli a 360 gradi, agibili a 360 gradi, spero possano essere portati a termine nel miglior tempo possibile. Sempre durante la stessa riunione che si è tenuta a Pescara si è parlato in realtà di primavera, quale periodo in cui inaugurare l'intera struttura e quindi data in cui verranno trasferiti tutti i servizi e finalmente il distretto sanitario di Montesilvano sarà un distretto consono a quelle che sono insomma, sia da un punto di vista strutturale che logistico, le esigenze di una struttura che è importante come quella che è il distretto sanitario. Avete intenzione di controllare se c'è qualche responsabilità in questo cattivo odore dovuta alle resine, di rifarvi sulla ditta che ha seguito gli appalti o no? Probabilmente già i dirigenti stanno facendo dei ragionamenti con i tecnici della ASL, volti appunto a ricercare delle responsabilità dove queste ci sono.